Buonasera e benvenuti a 8 e mezzo, buonasera e benvenuta a Rosy Braidotti, filosofa e professoressa all'Università di Utrecht in Olanda. Buonasera Massimo Giannini, direttore della stampa, buonasera Francesco Specchia, editorialista di Libero. Stiamo aspettando Giannico Carofiglio perché questa sera parleremo un po' del caso Morisi ma soprattutto del caso Mimmo Lucano perché come sapete è stato condannato a 13 anni di carcere. Questa sentenza sta facendo esultare la destra e la sinistra che cosa dice? Subito dopo la pubblicità. Grazie a tutti. Giannico Carofiglio, allora la interpello da ex magistrato perché questa condanna dell'ex sindaco di Riace in Calabria Mimmo Lucano a 13 anni di carcere fa molto discutere. La destra esulta, la sinistra grida allo scandalo. Fatto sta che il pubblico ministero, quindi la pubblica accusa, aveva chiesto 7 anni e 11 mesi e invece oggi in prima istanza è stato condannato a 13 anni e 2 mesi. Che cosa possiamo dire? Siccome sta facendo molto discutere. Tanto credo che possiamo dire che l'esultanza per una condanna di chi che sia è un fatto, come posso dire, moralmente riprovevole. Facciamo questa premessa. Poi in generale le proteste su sentenze di cui non si conoscono i contenuti rischiano di essere un po' incaute. Le proteste o le esultanze. Detto questo, per non sottrarmi diciamo così alla domanda, è un fatto abbastanza atipico che il giudice, in questo caso il tribunale, condanna una pena così vistosamente più alta di quella richiesta dal pubblico ministero. Può capitare, però questo significa alcune cose, o meglio in alternativa cose diverse. O c'è un errore da parte dei giudici, c'è un, si dice nel gergo, un cattivo governo, diciamo così, dei criteri discrezionali per la pena, o c'è stato un errore da parte del pubblico ministero che ha chiesto una pena inadeguata, diciamo, delle due una. Su questo, diciamo, c'è poca possibilità di sbagliarsi. Quello che va detto, ripeto, io non conosco la sentenza, ma la pena ho visto i capi di imputazione, che erano capi di imputazione seri, non c'è dubbio. Ovviamente la sentenza non esiste ancora, perché c'è un dispositivo, ma non una motivazione. Però la pena in questione è una pena che normalmente si dà per un omicidio preterintenzionale, per una rapina molto aggravata. A 12 anni ha avuto quel signore che ha sparato a delle persone, quel traini, mi pare. E quindi non c'è dubbio che ci siano, diciamo, caso per caso si debba giudicare con cognizione di causa. È un quantitativo di pena che lascia supporre o che, diciamo, i fatti siano più gravi di quanto abbiamo pensato, o che ci sia stato un governo discutibile dei criteri discrezionali. Massimo Giannini, tu che cosa pensi? Perché Mimmo Lucano viene condannato per molti capi di imputazione, che vanno dall'associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, alla froda, al peculato, all'abuso d'ufficio. Quindi sono reati sull'uso, molti di questi, sull'uso illecito di soldi pubblici. Fermo restando, questo ricordiamolo sempre, che Mimmo Lucano per sé non ha intascato neanche un euro. Allora? Allora io sono piuttosto turbato, devo dire, non mi nascondo dietro la solita frase che sempre si dice, cioè le sentenze non si commentano, le sentenze si accettano. Questo è ovvio, è persino banale ripeterlo, è così. Quello che però mi colpisce molto intanto è che questa pronuncia avviene a valle di un processo di linciaggio mediatico e digitale e politico al quale Mimmo Lucano è stato sottoposto fin da quando si è proposto all'attenzione dell'opinione pubblica con il suo modello di accoglienza a Riace. Questo credo che rappresenti un contesto del quale faremmo sempre bene a tener conto, anche nelle fasi più difficili nella gestione della risorsa dei migranti, Riace comunque anche a detta di coloro che a Riace venivano accolti, è sempre apparso come un modello che dava fastidio, dava fastidio onestamente. Ora io non voglio dire che con questo la sentenza rifletta un'intenzione politica soprattutto di destra che non per caso lo ricordavi tu prima Lilli, oggi esulta. Però mi limito su questo a osservare, non da magistrato, quello che diceva un attimo fa Gianrico Carofiglio e cioè che al di là di Luca Traini che è un esempio, noi abbiamo alle nostre spalle episodi di sentenze per femminicidio una condanna a Genova di un anno e mezzo fa che è di 12 anni, un'altra condanna Martina Rossi uccisa a Palma di Mallorca inseguita per uno stupro, una condanna a tre anni, Marco Vannini il ragazzo ucciso dalla famiglia Ciontoli diciamo un incontributo da parte di tutti ma soprattutto da suo padre è stato appena condannato a 14 anni, cioè lo stesso tipo di pena ecco questo qualche sconcerto ovviamente lo determina poi leggeremo le motivazioni però intanto sono piuttosto turbato Ecco Francesco Specchia, tu sei turbato, sei sconcertato è vero, lo ricordava Massimo Giannini, il modello Riace ha fatto il giro del mondo come esempio positivo di integrazione e di accoglienza quindi oggi che cosa resta di quel modello e tu sei sconcertato? Sì, sono sconcertato, sono turbato, non esulto pur essendo di destra perché come cittadino, come giurista e soprattutto come garantista credo che Lucano sia ancora innocente fino al terzo grado di giudizio quindi dobbiamo vedere altresì ritengo che le sentenze debbano essere commentate e rispettate allo stesso tempo quindi vediamo un po' come... certo è strana la faccenda del doppio della pena richiesta dal PM è una cosa assolutamente inusuale per chi ha frequentato il frequente le arde del tribunale è strano anche che Lucano abbia una serie di imputazioni che è lunga quanto un braccio ne citate solo alcune, sono la metà di quelle che hai detto tu cosa che resta? Resta un modello che in realtà è stato sicuramente osannato giustamente come un modello di accoglienza sulla gestione della migrazione della solidarietà dal Guardian, da New York Times mi ricordo una famosa popertina di Force, di Fortune però è anche vero che è un modello che si è basato evidentemente finora ripeto fino al primo grado perché poi magari cambia tutto al secondo sul fatto che Lucano abbia violato sistematica detto dai giudici che parlano di spietatezza abbia violato sistematicamente le regole, le norme, le leggi si è creato un enclave per cui faceva sposare delle persone per poter ottenere il permesso del soggiorno attribuiva dei concorsi dei fondi a chi non li rispettava insomma venivano saltate sistematicamente le graduatorie e i giudici hanno risultato su questo poi io mi auguro che Lucano sia innocente perché farebbe benissimo all'Italia a rinverdire questo tipo di modello ma se è un modello sbagliato dobbiamo condannarlo Allora, professoressa Abraidotti poi vi do a tutti di nuovo la parola allora lei si è detta indignata per questa sentenza perché? Sono molto triste oltre che indignata in effetti perché mi sembra che sia una sentenza che criminalizza l'antirazzismo per farla breve criminalizza l'aiuto umanitario, la solidarietà con quegli emigranti legalizza di fatto una cultura della discriminazione di indifferenza verso i deboli, i richiedenti d'asilo nega la politica dell'accoglienza che sono per me valori fondamentali e mi sembra grave dal punto di vista di quello che ci racconta su una cultura, una cultura sociale oltre che giuridica che collega in maniera stretta razza, alterità e criminalità perché ovviamente aiutare l'altro adesso sembra che sia un crimine che merita sentenze inaudite cosa stiamo andando verso? Una società etnocentrica con nuove gerarchie sociali fondarsi sulla razza e l'etnicità criminalizziamo le cose più semplici e banali come la solidarietà se questo è lo stato di diritto io rivendico il diritto di protestare e come? Allora, Gianrico Carofiglio ci sono anche le leggi da rispettare però e poi vedevo che non era d'accordo neanche specchia forse con quello che diceva la Braidotti non lo so, io credo... No, siamo in uno stato di diritto dove ci sono delle norme dobbiamo rispettarle, caro figlio magistrato l'ho fatto per anni è banale, se c'è una legge violata deve essere punita ma l'apartheid in Sudafrica era legale? Ma non c'entra nulla, è un discorso etico è un discorso etico non possiamo essere indifferenti siamo in uno stato laico ci sono delle leggi da seguire se no chiunque si può sentire in dovere di rubare di rapinare, di fare degli omicidi siamo regolati dalla legge purtroppo è così, lo stato è questo non si può restare indifferenti davanti alla razzializzazione della criminalità ma non siamo indifferenti siamo costernati siamo assolutamente costernati però purtroppo ci sono delle violazioni sistematiche di leggi disegno criminogeno discorsi classici della destra no, lo dicono i magistrati di sinistra signora professoressa si guardi la sentenza aspetteremo le magistrazioni ecco, magistrati di destra e di sinistra diciamo che i magistrati fanno il loro mestiere la legge è una Gianrico Carofiglio la legge è una ma ci sono anche tante possibilità di interpretare le leggi non c'è dubbio che vi siano molte possibilità di interpretare le leggi rispettosamente non condivido molto il discorso che ha fatto la professoressa oggi è una giornata bizzarra perché sono più incline diciamo a condividere quello che ha detto Specchia perché non c'entra moltissimo la criminalizzazione dell'aiuto e della solidarietà ovviamente questo non significa che la sentenza non si possa criticare questo non significa che la sentenza non lasci piuttosto stupefatti anche per un motivo che voglio aggiungere adesso lo metto nei termini se fossi stato io il presidente del collegio in generale se avessi dovuto decidere io quando uscire con questa sentenza ecco magari non l'avrei fatto due giorni prima delle elezioni regionali questo è un aspetto discutibile perché non ci vuole nulla a fare un rinvio a fra un mese per decidere al di fuori diciamo così del calore della battaglia politica e due giorni prima è una cosa bizzarra ci ho detto chiariamo che le migliori intenzioni in qualsiasi ambito io credo che Lucano avesse le migliori intenzioni anch'io sono stato e per molti aspetti rimango un ammiratore di quel modello ma le migliori intenzioni non forniscono un'essenzione dal rispetto delle norme penali dal rispetto delle leggi e delle norme penali ma Massimo Giannini sorridevi perché sorridevi e ha giustamente fatto notare caro figlio che diciamo questa sentenza irrompe nella campagna elettorale già molto come dire accaldata e per esempio ha fatto dire a Salvini la sinistra dalla caccia agli omosessuali della Lega ma candida in Calabria condannati a 13 anni allora per Salvini sembra quasi essere una specie di rivincita dopo il caso Morisi ecco vedi questo io lo trovo francamente intollerabile al di là del fatto che opportunamente suggerisce caro figlio in certi casi forse anche i magistrati i giudici in questa situazione potrebbero magari prendersi un po' più di tempo per evitare che le loro decisioni rompano in una campagna elettorale già sufficientemente intossicata è perché in Calabria si vota per le regionali e sappiamo che Mimmo Lucano è anche candidato ecco però qual è il punto? se noi ragioniamo in termini di giustizia o orologeria in Italia i magistrati e i tribunali dovrebbero smettere di lavorare perché c'è sempre un appuntamento elettorale o simile elettorale che suggerirebbe un rinvio di qualunque decisione su materie sensibili e questo è il primo aspetto ma il secondo aspetto e io non per caso nella premessa che ho fatto ho voluto ricordare l'inciaggio mediatico e politico al quale Lucano è stato sottoposto nel corso di questi anni indipendentemente dai reati che ha commesso se li ha commessi e se sono così gravi sarà interessantissimo andare a leggere la sentenza però mi interessa quello che precede la sentenza e come la politica la usa a proprio uso e consumo scusatemi il gioco di parole questo è insopportabile i magistrati fanno il loro dovere decidono è la politica che non dovrebbe usare le pronunce le sentenze per usare la clava contro l'avversario purtroppo è questo che fa la politica certa politica diciamolo la destra da questo punto di vista su questi temi fa un uso spregiudicato e a volte scandaloso anche di vicende giudiziarie posso dire che sullo stesso piano la vicenda di Modisi e quella di Mimmo Lucano secondo me è inaccettabile totalmente inaccettabile ha ragione Giannini posso dire che ha ragione ma vale lo stesso allora ha ragione Giannini vale lo stesso allora per Berlusconi vale lo stesso per Mario Mori vale lo stesso per Calogero Mannino è la stessa cosa cioè la giustizia non deve essere utilizzata non deve essere autora della loggeria giusto Giannini? io sono assolutamente d'accordo con te assolutamente allora dobbiamo mettere sullo stesso piano destra e sinistra come abbiamo sempre fatto perché non è possibile che se una sentenza non va bene a uno dopo va bene all'altro quando cambia cioè non deve essere la politica è ragione non si deve insinuare nei processi e questo hai ragione però siamo poi fondamentalmente anche noi cronisti che supportiamo poi queste tesi perché stiamo parlando proprio di questo delle fazioni che si creano quando le sentenze vengono pronunciate ecco ma professoressa non sono fazioso ma professoressa Braidotti no per carità volevo poi vi un attimo voglio fare un passo avanti perché naturalmente c'è chi dice che questa sentenza venga molto diciamo a fagiolo per la destra e soprattutto per Salvini perché così si oscura il caso Morisi raccontare il caso Morisi significa dare la caccia agli omosessuali della Lega come dice il leader della Lega professoressa ma assolutamente no è la Lega a dar caccia a tutto il popolo il BGT a coprirci gli insulti a umiliarci sostenendo politiche natalistiche fondate su un'idea tradizionale della sacra famiglia l'eterossessualità come stato naturale di tutti e poi pratica invece una doppia morale è questo il caso Morisi la doppia morale concedendosi tutto vizi e crimini compresi nell'ambito del privato ma il femminismo ce lo insegna da decenni la vita privata è altrettanto politica della vita pubblica crimini vediamo professoressa perché ancora diciamo le indagini sono in corso non c'è stata nessuna sentenza è vero è vero comunque si concede questa divisione tra il privato e il politico va rimessa in discussione io penso anche che fosse arrivato il momento di smettere di parlare degli omosessuali come se fossimo una categoria unica omogenea ed unitaria non è così la destra è una cultura gay fondata sulla doppia morale è un po' di ipocrisia diciamo la sinistra è una cultura gay fondata sulla solidarietà e diritti umani i verdi hanno una cultura gay fondata sul rispetto dell'ambiente e lo stile di vita forse ci serve una categoria analitica più precise o complesse come quelle che già applichiamo agli eterosessuali perché nessuno parla di eterosessuali come una categoria unica ormai gli omosessuali fanno parte di tantissime diversificate categorie forse un po' più di complessità oltre che un minimo di rispetto sarebbero utili Specchia cosa non ti convinceva di questo ragionamento? no ma non mi convene il discorso è giustissimo ma non vedo cosa c'entri con Morizzi e soprattutto con Salvini cioè io sono uno di quelli che da destra ha lottato e combattuto per i diritti degli omosessuali sia di destra che di sinistra che di centro quindi posso essere tracciato di tutto tranne che di questo però non vedo il problema cioè io vedo semplicemente una manipolazione anche in questo caso come nel caso evidentemente della sentenza Lucano da parte della destra una manipolazione di un fatto che in questo caso non è neanche un fatto processuale perché non c'è crimine finora almeno è un fatto etico io sono d'accordo sul fatto che gli eletti debbano essere eticamente superiori sempre ai propri elettori però in questo caso non si tratta di un eletto non si tratta di una persona notore si tratta semplicemente di un consulente di un leader politico per carità con una grande importanza e grande influenza però la responsabilità penale come sappiamo tutti è personale e responsabilità etica tanto più quindi non vedo cosa vada a incidere su Salvini e sulla campagna elettorale non vedo cosa c'entra la destra becciera cattiva anti-omosessuale io sono liberale liberale liberista non mi sento così ma non è una doppia morale ma dov'è la doppia morale di Salvini cos'è la doppia morale perché lei ha visto Morisi parlare dei meglio omosessuali ma dov'è la doppia morale mi scusi allora aspetti aspettate un attimo voglio sentire Gianrico caro figlio perché esiste una responsabilità non solo penale personale esiste una responsabilità politica sì ma a parte la responsabilità politica che pure conta precisiamo alcuni dati di fatto che non possono essere omessi in primo luogo il signor Morisi non era solo un consulente ma era un componente del direttivo della Lega con un ruolo politico oltre che tecnico nella gestione della macchina comunicativa questo per la precisione quindi non è un tecnico che lavorava per Salvini ma era un politico che lavorava con Salvini e con gli altri e che è stato pagato quando Salvini era ministro dell'interno ma non è questo non ci interessa questo ora non ci interessa dobbiamo chiarire che il suo ruolo era anche se non soprattutto politico perché egli era all'interno del direttivo della Lega ed era lo stratega di una comunicazione i cui connotati politici sono davanti agli occhi di tutti ripugnanti secondo me ma questo è un altro discorso la questione però cui accennava la professoressa della doppia morale è bene diciamo precisarla ulteriormente io credo che le questioni private delle persone anche che fanno politica siano e debbano rimanere questioni private a meno che qual è la meno che? immaginiamo che io fondi il partito della famiglia con questo partito della famiglia sostengo che la famiglia tradizionale è al centro della mia azione politica non voglio i matrimoni omosessuali non voglio le unioni civili voglio che il matrimonio sia il centro di tutta la mia azione politica è quello che la destra dice da sempre quindi dico che quello è un valore politico per me se si scopre che faccio le orge questo è politicamente rilevante mentre se io fossi il capo del partito del lavoro che della famiglia si disinteressa se quello che faccio nel mio privato è affar mio ma se invece nel contenuto del mio messaggio e della mia azione politica c'è proprio quella roba là ovviamente questo è rilevante ma lasciamo perdere adesso il tema della dimensione sessuale che è sempre scivoloso qui un altro tema è quello della droga è quello della campagna proibizionista durissima offensiva che si è accanita tra l'altro su persone sventurate che hanno perso la vita non ci dimentichiamo la vicenda Cucchi è quello che ha dovuto patire la famiglia Cucchi ad opera di questo signore che era dedito a questi passate di Morisi e della Mestra questo signore che era ed è un politico della Lega non un consulente della Lega non solo allora Massimo Massimo Giannini rapidamente no c'è di più c'è un altro elemento e Massimo Massimo scusa ti interrompo solo un secondo perché aggancio e facciamo un passo avanti il colloquio che tu hai pubblicato oggi con Berlusconi che lo staff di Forza Italia ha smentito mentre invece tu hai confermato tutto e cito intanto a proposito di gay la frase che ha detto Berlusconi in questo colloquio con te ha detto l'unico difetto di Morisi è essere gay forse non proprio l'unico magari scherzata sì è anche diciamo è una battuta che riflette la visione dei rapporti tra i sessi dell'etica e della moralità al quale il Cavaliere ci ha abituato nel corso di tutti questi anni torno subito sul Cavaliere però volevo fare un'aggiunta rispetto al caso Morisi per spiegare perché è un caso a tutti gli effetti politico e ci deve interessare assai poco o addirittura nulla la sfera morale e personale che riguarda la vita dello stesso Luca Morisi ma Morisi ha ragione Gianrico Carofiglio a ricordarlo era a tutti gli effetti un politico sia perché lavorava con Salvini ed era nel direttivo della Lega sia perché Salvini ministro degli interni gestiva una struttura al viminale cioè una propagine della macchina del fango della bestia salviniana gestita da Morisi era al viminale e questo ci interessa moltissimo come è ovvio non è soltanto un problema di coerenza tra quello che dici e quello che fai nella tua vita privata è un fatto politico di rilevanza enorme aggiungo poi per quello che riguarda Berlusconi rapidissimamente ovviamente la telefonata c'è stata la smentita dello staff quindi non te la sei inventata questa intervista colloquio mi pare che diciamo anche l'eco che ha avuto è stato abbastanza abbastanza evidente per il fatto che Berlusconi ha detto in chiaro quello che va ripetendo da settimane e settimane nei suoi colloqui privati e cioè pone una questione fondamentale al di là della qualità complessiva della leadership in questo momento in Italia in Europa e nel mondo un problema che esiste però aggiunge una riflessione in più quando immagina un futuro prossimo nel quale Draghi potrebbe andare al Quirinale e aggiunge e sì poi che succede e mandiamo dall'incarico a Salvini dall'incarico a Lameloni dai non scherziamo il sottotesto di questo è una domanda cruciale in questo momento la destra è maggioranza nel paese secondo i sondaggi bene se un giorno gli italiani decideranno di votare Salvini e Meloni a Palazzo Chigi sarà tutto legittimo ci mancherebbe altro ma ad oggi la domanda che uno dei leader della destra io stesso e credo parecchi italiani si fanno è un'altra e cioè questi due leader sono all'altezza di guidare un paese come questo in un momento come questo questa è la vera domanda il resto sono chiacchiere su questo io credo la destra tutta centro destra radicale destra moderata dovrebbe fare una seria riflessione nel momento in cui si avvicinano alle scadenze elettorali e Berlusconi ha il merito di averla fatta secondo me adesso sta a loro raccoglierla poi capisco che deflagra tre giorni dalle comunali ma non è colpa mia ma qua deflagra tutto se è in campagna elettorale pochi giorni prima scusate se faccio il giornalista voglio sapere cosa pensa Francesco Specchia ma è indubbio io personalmente credo che Giannini sia smentibile l'intervista cioè è talmente bello scelto adesso parte l'intervista che ovviamente Giannini essendo un navigatissimo giornalista da decenni non è che si succede spesso no a proposito delle leadership della premiership di Salvini mi permetto di sentire un attimo perché io credo che Salvini stia commettendo certi errori di comunicazione e nell'inseguire anche una minoranza soprattutto per quello che riguarda la trattazione del virus del green pass eccetera una minoranza quando lui si trova a essere maggioranza all'interno del centro-destra ed è sbagliato è come se avesse un partito del 4-5% c'è una sorta di riflesso pavovliano della minoranza mentre la Meloni secondo me sta facendo operazioni diverse sta cavalcando questo tipo di minoranza per cercare di prendere consensi all'interno dell'opposizione e la sta facendo perché sta alzando i propri consensi quotidianamente in maniera progressiva e penso che sia giunto il tempo ma qui lo devo dire perché parlando con Giorgia Meloni che io non conoscevo mi sono stupito dalla capacità di non solo recepire ogni tipo di informazione ma anche di elaborarla anche da un punto di vista tecnico e addirittura economico quindi credo che sia il tempo che sia Meloni o meno mi auguro che sia Meloni che ci sia un presidente del consiglio donna o addirittura un capo dello Stato donna da prescindere il fatto che sia Meloni o meno ma Meloni è un buon professore Savraidotti su questo siamo tutti d'accordo e voglio aggiungere anche una domanda a lei perché siccome prima ho citato in questo colloquio di Giannini Berlusconi che ha detto l'unico difetto di Morisi è essere gay ora siccome lei è sposata con la sua compagna da 22 anni tutte e due siete molto difettose guardi funzioniamo benissimo a tutte le dimensioni a tutti i livelli mi stupisce un po' che il presidente Berlusconi dica di queste cose perché ho l'immagine di Berlusconi come una persona che ama molto la sessualità e che capisce che la sessualità e l'amore sono gioco allegrie trasgressioni quotidiane allora su via Berlusconi che difetti e difettosi facciamola il nostro meglio e soprattutto l'amore è l'amore è toujours l'amour mi sembra che lui questo dovrebbe capirlo questo probabilmente lo capisce molto bene però l'unico che ha sostenuto i gay nel centro Berlusconi è quello che è stato più liberale di tutti nel sostenere anche i diritti dei gay signori di cosa stiamo parlando è Alessandro Mussolini che va alla Gay Pride il primo premio va alla Mussolini è stata grandiosa perché non può andare a Gay Pride non può pensare che due donne e due uomini possono stare insieme a Alessandro Mussolini solo perché è un tantino fascista come direbbe lei ma cosa c'entra la sessualità è un colore politico ma la sessualità è un colore politico mi scusi ma certo che no è gioco allegria trasgressione e dico che la destra in questo momento ha tantissime figure che sono a favore dei gay è sicuro che anche noi siamo molto allegri è sicuro che anche noi siamo molto allegri e ironici la sessualità è gioco lo sappiamo su questo siamo anche molto d'accordo io adesso vi faccio vedere il punto di Paolo Pagliaro perché come forse ricorderete l'altro ieri Draghi oggi ha incontrato Greta Thunberg in un incontro che è andato molto bene l'altro ieri il Presidente del Consiglio ha candidato la capitale Roma per l'Expo del 2030 però intanto c'è chi cerca di recuperare questa edizione perduta guardate l'ultimo marchio italiano approdato a Dubai è quello di Roberto Cavalli che si intesta un grattacielo di 70 piani del costo di 545 milioni di dollari destinato a 485 miliardari di tutto il mondo negli Emirati Arabi altri significativi affari per il Made in Italy sono attesi a partire da domani quando a Dubai con un anno di ritardo causa Covid si aprirà l'Expo 2020 sarà un'occasione importante per i paesi come l'Italia che affidano all'export di beni e servizi una quota importante delle proprie fortune economiche alla prima esposizione universale nel mondo arabo l'Italia si presenta con un padiglione a cui hanno lavorato 70 partner istituzionali 50 imprese sponsor 15 regioni e 30 università a loro è stato chiesto di indicare soluzioni capaci di generare crescita innovazione e collaborazione internazionale il saper fare italiano verrà raccontato su un maxi schermo dal regista Gabriele Salvatores i visitatori in sei mesi ne sono attesi 25 milioni vedranno il meglio delle nostre arti artigiane dell'agroalimentare della meccanica del design le ferrovie proporranno il freccia rossa green da esportazione ci saranno l'industria aerospaziale del Lazio e quella nautica della Liguria proporranno innovazione fin cantieri Leonardo Avio Enea CNR all'expo di Dubai c'è anche un padiglione di Israele che mai era stata ammessa a un evento universale in un paese arabo non ci saranno invece gli attivisti di Amnesty che da anni denunciano arresti arbitrari torture e altre violazioni dei diritti umani ai danni dei dissidenti e degli immigrati questi ultimi negli Emirati sono il 90% della forza lavoro e vivono spesso in condizioni di schiavitù siamo in chiusura grazie Gianrico caro figlio grazie Rosi Braidotti grazie Massimo Giannini grazie Francesco Specchia grazie spettatrici e spettatori linea Corrado Formiglia e sua piazza pulita quindi restate con noi e noi come sempre ci vediamo domani a prima e mezzo arrivederci arrivederci ciao ciao